Musica Amici di Cristiani Today, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento, mi trovo ai laghetti dell'Eur, un posto bellissimo, molto rilassante e sono insieme all'attore Danilo Bruggia, benvenuto Benvenuti a voi, grazie, grazie dell'invito Grazie a te insomma per esserti prestato in questa intervista dove ti conosceremo sotto un altro aspetto, l'aspetto spirituale, l'aspetto diciamo di devozione a San Pio Intanto volevo presentarti, cioè tu hai iniziato la carriera vestendo il ruolo di un caramba boy Dove far sentire vecchio praticamente Stiamo parlando di tanti anni fa, io ero una bambina Grazie, era il 1998, non voglio sapere quanti anni avevi, io ne avevo 18 e sì è stata la prima No te lo dico, avevo circa 6-7 anni Benissimo, perfetto, grazie E niente, è stata la, come dire, la trasmissione, l'esperienza professionale con la quale ho iniziato il mio percorso artistico E ho avuto la grande fortuna di poterla vivere e condividere con Raffaella Carracchi Insomma è un mito della televisione italiana, oltre che una persona splendida, una grande artista E per me, tuttora, un'amica, una persona che sento ancora molto vicino e che mi ha aiutato molto Ecco, però poi ti abbiamo, sei diventato popolare, ti abbiamo visto nel piccolo schermo Interpretando Stefano della Rocca nella sua peopera Cento vetrine Esatto E poi nella quarta stagione, regentemente, delle Tre Rose di Eva, che io ho visto tutto Peccato che sei morto all'inizio Esatto, sì, perché hanno deciso di montare, come dire, le scene che mi riguardavano al contrario E quindi fare poi tutto quello che ho fatto nella quarta serie come un flashback Per cui tante persone effettivamente hanno detto, ma sei già morto? Dico, no, aspettate un attimo, dico, non è colpa mia se l'hanno montata al contrario E quindi sì, però sì, è partita con la mia morte Però lì eri già un po' più cresciuta, mi sa, la quarta serie Sì, è molto reggente, quindi stiamo parlando di ora Poi tutto può succedere, ma anche il tuo lavoro ti ha portato anche in radio Appunto sei un conduttore radiofonico E iniziamo subito La tua famiglia, diciamo, è sempre stata cattolica Quindi di conseguenza ti ha trasmesso un certo rispetto per la fede Ma in particolare nonna Melina Esatto, sì, la mia... Bello che l'hai chiamata Melina Sei la prima che la chiama con il nome con cui la chiamavo io La chiamavamo tutti perché lei era Carmela, ovviamente Però siccome era piccolina, era minuta, era carmelina E quindi da lì Melina È il mio angelo custode È la nonna a cui io ero più legato Quella che mi ha cresciuto, la nonna materna Con cui ho trascorso gran parte della mia vita d'infanzia Adolescenziale, in vacanza, a casa Quindi per me quando stavo con lei era, insomma, una gioia, una festa E sì, lei essendo pugliese sentivo da piccolo parlare in casa di questo Sampio Di questo, all'epoca, frate Cappuccino Ne sentivo parlare bene Quindi era, come dire, un nome familiare Però ovviamente essendo bambino non ci facevo caso Non ci badavo E ti confesso, non ci ho badato neanche quando ormai ero un po' più cresciuto E soprattutto quando mia nonna è venuta a mancare Che avevo 21 anni E poi, pian piano, come dire, ho scoperto questa grande figura di padre Pio E devo dire che adesso lo considero un amico Ma poi ti racconterò delle cose molto belle Quindi dobbiamo dire grazie a nonna Melina per questa devozione a Sampio Che un po' ti ha trasmesso lei E anche se i tuoi figli sono piccoli In un certo senso anche loro comunque hanno un attaccamento al frate di Pietralcina Sì, 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 assolutamente sì Perché ovviamente io ne ne parlo spesso Gli racconto delle cose Poi sono dei bambini veramente Che sono stati cresciuti anche loro con i valori della fede, della cristianità Quindi, per esempio, il piccolo ha al polso un braccialetto Con la foto di padre Pio L'altro grande anche ne parla spesso E finora purtroppo non sono riuscito a portarli Né a San Giovanni Rotondo né a Pietralcina Però siccome ci sono varie occasioni Anzi, ufficiali che ufficiose In cui io vado in quei luoghi Per cui prima o poi li porterò Tu dici, ti racconterò Per quanto riguarda la devozione a Sampio Perché questa devozione? C'è stato qualcosa di particolare nella tua vita Che ti ha portato poi a seguire Ecco, Sampio? Ma vedi C'è sempre un momento nella vita di una persona In cui la fede diventa veramente un'ancora di salvezza Diventa una necessità spirituale Per cui tu possa sentirti bene E possa sentire l'aiuto che viene dall'alto Io nello specifico non ricordo Perché o quando effettivamente Ho cominciato a rivolgermi a Padre Pio E a identificarlo come una figura Di cui avevo bisogno nella mia vita Però è successo Ho cominciato a pregarlo Ad andare in quei luoghi Poi mio padre e mia madre Anche spesso vanno lì in pellegrinaggio Partendo da Roma E quindi è stata una presenza che pian piano è cresciuta Fino a che io ho cominciato veramente ad avere dei segnali Che tutt'oggi Ormai mi riempiono di gioia Mi riempiono il cuore e l'anima proprio Però le prime volte un po' mi hanno spaventato E ti confesso che ho pianto alcune volte Perché ho detto Ma è possibile che effettivamente Cioè succeda questo Però lui c'è, io lo sento E ti ripeto Mi ne ha dati di segnali Se vuoi te ne posso raccontare anche alcuni Già un paio di anni fa Se non di più Io andai a San Giovanni Rotondo Come faccio spesso Anche per motivi semplicemente personali E andai lì L'ho pregato E ovviamente quando preghi Preghi per le tue cose private Ma preghi anche onestamente Perché ti aiutino magari nel lavoro Perché ti possano agevolare Perché insomma alla fine Il lavoro è vita È necessità Quindi chiedi anche un supporto Sotto quel profilo Io dopo due giorni Da quella preghiera Ricevetti una chiamata Da un regista Che mi chiedeva Di interpretare Il ruolo da protagonista Di Papa Giovanni Paolo II Che ora tu dirai Vabbè Che c'entra E no c'entra Perché Papa Giovanni Paolo II Sappiamo tutti Che contatto E che rapporto avesse Con Padre Pio Sappiamo Forse non tutti sanno Che Padre Pio Quando ricevette la lettera Di Papa Giovanni Paolo II Quando ancora non era Papa E quando ancora Non c'era minimamente idea Che poi sarebbe diventato Santo anche lui Padre Pio disse Ai frati che aveva vicino Leggendo la sua lettera Disse A quest'uomo Non si può dire di no Per dire Quanto già lui Avesse capito Chi sarebbe diventato Papa Giovanni Paolo II E non solo Mentre stavo facendo le prove Di questo spettacolo Mi chiamò La produzione Di una voce Per Padre Pio Nella quale io spesso Sono andato ospite Per chiedermi di leggere Le lettere di Padre Pio Su TV 2000 E questa è una Ma l'altra Più eclatante E l'ultima pure È ancora peggio Nel senso buono del termine È che io andai sempre lì Pregando Padre Pio E poi faccio Come hai detto tu L'incontro Per Le Tre Rose di Eva Con la produzione Ovviamente ci tenevo Come tutti i lavori A farlo E la risposta positiva Il sì Che io interpretavo Il ruolo Nelle Tre Rose di Eva Avvenne il 23 settembre Che è il giorno Della morte Di Padre Pio E questa è l'altra Quindi poi Ditemi se non è un segnale La terza È l'ultima Questa qui Quando adesso Ho registrato Una voce per Padre Pio Che è andata in onda Qualche giorno fa Su Rai 1 Io il 25 giugno Ho compiuto 40 anni Qualche giorno prima Che arrivasse il mio compleanno Mi sono detto Dentro di me Io però devo andare Da Padre Pio Perché faccio 40 anni Non è possibile Che non vado da Padre Pio Ci tengo Ci tengo Però effettivamente Ragionando un po' Sulle dinamiche familiari E lavorative Dico ma quando ci vado Però come faccio Andare Non avevo il tempo materiale Ebbene Mi chiama il giorno dopo La produzione Di una voce per Padre Pio Per dirmi Verresti a registrare La trasmissione Una voce per Padre Pio Il 21 Il 22 giugno Giù a Pietrelcina Dico sì Sono andato giù Sono potuto andare A Pietrelcina Non a San Giovanni Rotondo Ma ovviamente Era un segnale La trasmissione Del 22 giugno Non si è potuta registrare Perché ha piovuto Quindi io mi sono dovuto Trattenere Per farla breve Fino al 24 giugno Il giorno prima Del mio compleanno E quindi ho trascorso Praticamente Si può dire Ho festeggiato Un po' in anticipo Il mio quarantesimo compleanno In compagnia di Padre Pio Ho fatto un pellegrinaggio Splendido All'olmo di Padre Pio Che è l'olmo Dove lui ha ricevuto Le stigmati Da solo Nella via Del Rosario Come si chiama lì Ed è stata Un'esperienza Meravigliosa Perché non c'era nessuno Eravamo io e lui Beh questi sono Segni dal cielo Per noi che crediamo Nella presenza divina Dio incidenze Mi piace chiamarle Ma che posto Occupa la preghiera Nella tua vita? Il primo posto Nel senso che io prego Come i miei figli La sera Prima di andare a letto Prego la mattina Quando mi sveglio Sento il bisogno Cioè ci sono proprio Dei momenti In cui sai quando dici Ho sede Dici di andare a bere Ecco io sento il bisogno Di andare in chiesa Anche solo per 5 minuti Vado lì Mi metto nella chiesa Del quartiere In un angolo Della chiesa Del quartiere Dove è una parte isolata Dove si prega davanti Al posto In cui viene tenuta l'osti Sto lì e prego Quindi è fondamentale E ultimamente ti dico Che ho scoperto Grazie ad un amico Una preghiera Che ammetto l'ignoranza Ignoravo Anche se l'abbiamo letta tutti Perché sta nel bangello È il Magnificat E devo dire che mi aiuta molto Perché questo mio amico Mi ha detto pure Mi raccomando Recitala spesso Perché questa preghiera Aiuta a tenere lontano Il male E devo dire Che lo faccio Continuamente Durante la giornata E mi fa stare ancora meglio Di quanto Noi stessi prima Ecco Il nome di tuo figlio Si chiama Uno dei due Si chiama Mattia Significa Dono di Dio Non è stato scelto a caso Cioè A seguito C'è stato un evento Un po' spiacevole Chiamiamolo così Di un aborto spontaneo Che aveva tua moglie Quindi poi Non è stato messo a caso Questo nome No In realtà Anche questo Anche il nome È stato una casualità E anche quello Mi ha fatto pensare Perché in realtà Quando noi abbiamo scelto Il nome di Mattia Non sapevamo Che Mattia Significasse Dono di Dio E l'avevamo scelto Perché ci piaceva Poi è successo Un episodio Per cui La mia La mia ex moglie Perché Come tu sai Io sono Sono separato E Questo è un po' Diciamo Piccolo neo Nella Nella fedina Cattolica Chiamiamola così Però Ahimè Può succedere E Scoprimmo Che In realtà Come dire La mia ex moglie Era rimasta Incinta Di Mattia Lo stesso giorno In cui era rimasta Incinta Del figlio Di cui tu hai parlato Che purtroppo Per motivi Normali Insomma Come può capitare Non c'è stato Insomma Non ha portato avanti La gravidanza Quindi il fatto Che fosse successo Nello stesso periodo Ovviamente Ci ha fatto dire Che scegliere il nome Di Mattia Era un angelo Che tornava dal cielo Era un dono di Dio È vero che invece L'altro tuo figlio Emiliano Ti chiede la sera Di recitare il Padre Nostro Sì Sì Loro Ogni sera Sia lui Che Mattia Io magari Non che mi dimentichi Perché poi ripeto Prego Nel mio letto Magari mi dimentico Tra virgolette Di farlo insieme a loro Ma loro ci tengono Quindi mi richiamano Papo Diciamo le preghiere Quindi io torno indietro Mi metto in camera con loro E recitiamo Il Padre Nostro L'Ave Maria Il Gloria L'Angelo Angelo Custode E poi L'Eterno Riposo Insomma Facciamo tutte e cinque Le preghiere E poi ce ne andiamo a letto Quindi A proposito dell'Angelo Custode Tu comunque Sei legato anche Alla figura degli Angeli Sì Quando è che ne hai Sperimentato la presenza L'aiuto Qualsiasi cosa Ma io Guarda Ti ho detto In questo periodo qua Mai come adesso Sento veramente La presenza Ripeto Di Padre Pio In ogni momento Degli Angeli Di mia nonna Ma mia nonna Melina Mi apparve subito In sogno Tre giorni dopo Essere venuta a mancare E serenamente Con la sua Faccetta felice Mi disse Non ti preoccupare Non sarai mai solo E quindi Io so che c'è Anche se sicuramente Conoscendola L'ho fatta un po' arrabbiare Perché Ti emozioni Quando parli di tua nonna Ma sì Perché Io poi Ho un rammarico Di mia nonna Perché purtroppo Questo lavoro Che facciamo Passami il termine L'aggettivo È un po' infame Perché è un lavoro Che non ammette dolori Che non ammette tempo Per i propri cari Che tante volte Ti porta a dover mancare Proprio nei momenti Fondamentali Della vita Di una persona Soprattutto Di un parente Di una nonna Come era lei E lei purtroppo Si è ammalata Ed è venuta Ed è venuta meno In un periodo In cui io con Carramba Facevo tantissime serate Tantissime date Fuori Roma E quindi Quando lei Non c'è stato Io l'andavo a trovare In ospedale Però quando lei Proprio è venuta a mancare Io non c'ero E quindi ho sempre Questo ricordo Molto Come dire Un po' pesante Per me Di come venne A sapere la notizia Di come dovettero Dirmela Perché sapevano Quanto io fossi legato A mia nonna Quindi venirlo a scoprire Così all'improvviso Per me è stato Un po' Però mi ricordo Tutti Io sono cresciuto Con lei Io da quando ero piccolo Loro mi prendevano Dalla fine della scuola Mi portavano al mare Io stavo con loro Da giugno a settembre Ma anche durante l'anno Quindi veramente Per me Nonna Melina È stata una Una seconda mamma A tutti gli effetti Ecco Parliamo anche Di una cosa Bella Reggente Diventerai papà Per la terza volta No Della Tua compagna Mia compagna Qual è l'emozione Più grande Per un papà L'emozione Più grande Per un papà È quella Di Di sapere Che appunto Che hai un altro Un altro esserino Che tu hai voluto Che hai Che hai creato Quelle possibilità Che Dio ci ha dato Che sarà tuo per sempre E che come ecco Avendone già due Io vivo per loro Cioè nel senso Non Per me la separazione È stata È stato un evento Un po' Problematico Non tanto per me Per lei Perché purtroppo Siamo esseri umani E si sa che le cose Possono capitare Le strade possono dividersi Per me il vero dramma Erano loro Cioè Infatti tante volte La mia nuova compagna Alessia Mi dice Tu non sei un papà Tu sei un mammo Perché A differenza di tanti papà Durante una separazione Che riescono Ad accettare La lontananza dai figli O le dinamiche Che sono proprio Di una separazione Con più semplicità Io non ce la faccio Cioè nel senso Io ho preteso E sottolineo Preteso Fin dall'inizio Di poter vivere Nonostante il mio lavoro I miei figli Tanto È ovvio Che questa cosa Mi crea Un grosso problema Perché il lavoro Che faccio Non mi consente Di poter gestire Un orario Come una persona In ufficio Però lo faccio Perché Vivo per loro E perché Per me Non averli Non poterli Veder crescere Sarebbe la cosa più brutta Quindi Per ritornare Al tuo discorso Questo terzo figlio È intanto Una gioia Immensa Perché dopo dieci anni Perché Mattia Ormai ne ha dieci Un po' dimentichi Quali sono Le cose Che succedono Quando un bambino Nasce Quindi rivedermi Adesso In questi giorni Fra pannolini Biberon Che arrivano Vestitini Tutine È una grande cosa E loro Sono una tua estensione Quindi La gioia più grande È quella Noi ti facciamo I migliori auguri Insomma Per questo Terzo figlio In arrivo Grazie di essere Stato con noi È stato un piacere È contento Di aver fatto Quest'intervista Perché credo Che la fede Sia Sia fondamentale E prima o poi Come dire Nella vita di ciascuno di noi Arriva il momento In cui ne senti il bisogno Siccome Dio è grande E misericordioso È buono Anche se talvolta Tante persone L'hanno tenuta lontana Diventerà per loro La vera ancora di salvezza Grazie a Danilo Brugge Grazie a tutti voi Di essere stati con noi Grazie a tutti i nostri spettatori